Musica Ciao a voi popolo di Youtube, io sono TearlessRaptor e vi do il benvenuto in questo nuovo video della Pixelmon GX Oh yes baby, siamo qui quest'oggi in compagnia del mio futuro coinquilino dell'Arts, salve bello Ehi, sono io il coinquilino Sì, sei tu il coinquilino, e a proposito di coinquilinicità, Dani, tu non hai ancora visto tutto il lavoro che ho fatto off camera? Assolutamente no No, infatti, quindi adesso possiamo incamminarci e con un pochettino di freeze andare verso il sito dove si trova la nostra futura casa Tra l'altro, pensa quanto è romantico dove sei finito, ti ho perso Dani Eccomi, scusa di tutti questi fiori di cilie Ah ok, no, no, tranquillo Pensa quanto è romantico, siamo partiti da dove si trovava la tua vecchia casa e stiamo andando dove si trovava la mia vecchia casa Che è anche il posto dove si troverà la nostra nuova casa Questo simboleggia proprio lasciare il vecchio per trovare il nuovo nella vita Esatto Mamma mia Ah oddio, si è appena iscritto qualcuno al mio canale Twitch, perché ho sentito un suono in sottofondo e dicevo Ma che cacchio? Ok, va bene Mi è arrivata la notifica Comunque, gente Vergogna, non iscrivetevi Ha anche ragione Cioè volevo dire No, no, ha anche un po' ragione Comunque ragazzi, vi voglio dire che se lunedì non è uscito un video della Pixelmon È perché la settimana prima mi ero preso un po' di vacanza, se così si può definire E quindi non ero riuscito a lavorare off camera a determinate cose Piuttosto che a fare un video buttato lì Ho deciso di non pubblicare niente e di aspettare quest'oggi per il gran reveal della casa Dani OMG A parte che qua c'è tutto il centro esploso Ah, sono contento che non sia questo ammasso di rottami No, no, Dani, guarda, casa tua in realtà è qua sotto Scavi un blocco e se no sto scherzando Ma uffa La nostra casa è qua giù Yeee Ho aggiunto un secondo piano e il tetto OMG OMG C'ho anche aggiunto le pareti perché prima era soltanto un pavimento Oddio, aspetta, devo un attimo No, no, no Stunfisk, volevo volare Beh, non puoi volare sullo Stunfisk No Sì, il tetto non mi convince ancora moltissimo onestamente perché mi sembra troppo piatto in cima Oddio Da sopra sembra proprio un cuore Eh, ma è un cuore, ma certo tesoro Mi sa che però ancora un pochettino Oppure dividendo la metà vado a rigonfiare entrambe le metà Non ne ho idea di quello che farò Mamma mia, signori Però ho intenzione di fare queste cose E poi dentro per il momento è ancora vuota È un'enorme scatola vuota che magari riempiremo Nell'un fine settimana Credo, suppongo E dentro l'abbiamo un piccolo Pezzettino di zona ingresso Dove gli ospiti possono appendere giù le loro giacche Le loro cose Vieni pure, vieni pure Apri la porta Can I come in, like, right now Entra, cretino Muoviti Questa qua è praticamente l'ingresso della casa Dove tutti gli ospiti possono giù le loro schifezze Qua abbiamo la casa divisa Cioè, non è divisa Però è molto largo questo spazio Abbiamo Un'intera metà che dedicheremo a una cucina Un'intera metà che dedicheremo a Un Un soggiorno Cos'è del genere Poi se saliamo dalle scale Avremo ciascuno la nostra metà Di piano superiore come stanza Poi faremo anche una porta In modo tale da essere collegati, Dani Oh Mi piace Mi piace anche a lui Ah, mi piace anche a lui Non capivo cosa stessi facendo Perché ho visto che hai tirato fuori Il pesce qua E Vabbè, non lasciamo perdere Esatto, è la mia ciabatta La mia pantofola A ciascuno la sua ciabatta Ciao Tina, un salutone Comunque, sì Per il momento è vuota Ah, al piano di sopra ho messo Tutta quanto il muro di vetri Non so, dimmi se ti piace, Dani Molto, molto bello Così possiamo vedere attorno Possiamo spiarci Possiamo spiare le case degli altri È spettacolare Come le vecchie di paese Al via di quello Io posso anche spiare Quello che fai tu In questa fettina di stanza È vero Che poi, vabbè Sti cazzi Cioè Ci metteremo una porta Un passaggio Quindi non cambia niente Però, insomma Esattamente Ecco, questo è quanto Ancora non abbiamo fatto Un laboratorio Che dovrebbe andare qua sotto Però Con calma Una cosa per volta Che già Già abbiamo buildato abbastanza Dani Detto questo Il video finisce Ciao a tutti Non è vero Scherzavo Siamo ritornati E quest'oggi Siamo qui Per andare in un posto Che io personalmente Non visito da secoli Sai dove stiamo per andando? Dove stiamo per andando? Eh, dimmelo tu Io non ne ho idea Casa di Eren A vendicarci Perché ci ha messo sotto un ponte Appiccando un incendio In tutte le sue stanze Ci starebbe Però in realtà Io stavo pensando Di andare alla sfortunas Per fare Un minigame Con la ruota della fortuna Non so neanche parlare Non lo so neanche definire Ma io non ne ho mai quasi fatti Vero Dani Non ne ho mai quasi fatti davvero Wow Allora Questo gioco qua Che era quello che avrei voluto fare Quello della pesca Dato che ancora sul canne Non l'ho portato Sfortunatamente non funziona Perché abbiamo constatato Che adesso Le canne da pesca Di fatto non alzano più i pokemon Ora ve lo faccio vedere Con questi trappinci Che ci sono qua in giro Eh vabbè Magari proviamo Le canne di limone L'ho capita? Purtroppo sì L'ho capito E mi viene da piangere Comunque Ora Se davvero riuscissi a prenderlo Eh Trappinci fatti prendere Sì vedete che Li tira verso il tema E non li tira verso l'alto Non abbastanza Quanto meno Per fare entrare nelle vasche Quindi Pescami tutto Ok no Ti albicocco tutto invece Ecco vedi allora Che zecchi tu Allora Comunque sì Non funziona la pesca Quindi Andiamo a fare il minigame Della ruota della fortuna Che è stato il primo Che ho fatto su questo canale Ormai mesi e mesi fa Quindi Anch'io è stato il primo E anche il secondo Poi basta Poi non l'ho più toccato È stato il primo perché Cioè Era l'unico Era l'unico all'inizio Tra l'altro Grazie Tech Grazie Tech Ho in mente un'idea Per un minigame Che però Comincerò a fare con calma Prima abbiamo altre cose Di cui preoccuparsi Abbiamo una casa da finire Abbiamo una palestra Da affrontare E abbiamo una missione Abbiamo cose da fare Che effettivamente Le ho lasciate in sospeso Allora Mettiamo via i nostri Pokémon Dentro il PC Tanto nel frattempo Giusto perché Non serve a nulla Averceli qua Ora come ora Dani Siccome sei l'ospite Di questo video E siccome sei il mio super amico Do a te La possibilità Di Anzitutto Scegliere se farla Con i livelli casuali O con i livelli fissi Al 50 Casuale Casuale Ok L'ignoranza ci vuole E In secondo luogo Dota è l'onore Di schiacciare per primo il bottone E vedere quale Pokémon Uscirà Per chi se non ricorda come funzioni Questo gioco In pratica Andremo ad estrarre Sei Pokémon a testa Che verranno fatti Poppare fuori dal centro Della ruota E verranno estrati completamente a caso Dall'intero Pokédex E questi sei Pokémon Poi li cattureremo Con delle Park Ball E una volta Finita la lotta Anzi Anzi Facciamo questa cosa Dani Il vincitore di questa battaglia Avrà diritto a tenersi Un Pokémon a sua scelta Dei 12 che verranno estratti OMG Eccezione fatta per leggendari e shiny Ovviamente Quindi prendiamo le Park Ball Le Pork Ball Oink oink Oh yeah E Dani Quando vuoi partire Parti Ok sono pronto Vai Vediamo cosa gli esce fuori Gira la ruota Yeah yeah Gira la ruota Yeah yeah Ma è uscito Donald Trump OMG It's a fucking Donald Trump Spero di trovare Rattata di Alola Ti giuro Oh mio Dio Per le meme sarebbe Bellissimo Tipo Donald Trump Versus Messicani Costruisco un muro Proprio a metà della ruota I'm gonna build a wall And I'm gonna make them pay for it Va bene Perché altro Più che un muro Dovrebbe far spawnare Un sacco di ucci struttura Davanti Tra una cosa e l'altra E infatti Così è proprio La meme ultima Comunque vado di strada Io il mio primo Vediamo cosa esce fuori Rattichettialo Cos'è? Un Poliwrath È un Poliwrath È piccolo Ti prego Se vinci devi tenerti lui Ma sai che Qual è il problema? Che è quella La dimensione normale Dei Poliwrath Non è piccolo per sbaglio È piccolo così davvero Sai che all'inizio Quando li avevamo rimodellati Ti avevo detto Guarda loro non ti spoilerò niente Per quello che riguarda l'evoluzione È questo Diventa minuscolo Ma sai cosa che i fan Nel mio ultimo episodio Della Pixelmoni Avevano detto No Adlarzo Fallo evolvere in Poliwrath Perché Poliwrath Non ti conviene Perché L'hanno fatto malissimo Non mi aspettavo È piccolo invece Aspetta che ti dico La dimensione qual è Ah no Poi lui è nano Tra l'altro Quindi è ancora più piccolo Madonna Vabbè local paste È un girino Hi guys Vabbè Hi guys Tocca a me Vai Oh Signore e signori Buonasera Ecco Vabbè Si vai per Non c'è da lamentarsi Sì se non fossero tutti A livello 20 Beh effettivamente Poteva andarti meglio Potevo cercare Si vai per al 58 Gamsha è al 22 Ah Si vai per al 29 Ok quasi quanto I miei messi insieme Ci sta Can I copy strike The wheel of fortune Like right now Like right now Basta Memare allinity Please Ci hai già pensato Abbastanza all'internet È appena iniziato il mese Mema questo tannato cactus Però a livello 21 Sai che Cacne è uno dei miei pokemon Preferiti di terza genna È molto carino Mi piace un sacco Taktur invece Mi mette inquietudine Abbastanza Perché sembra tipo Uno spaventapasse di pedofilo Con le spie Lo è Ok È il mio turno Ok È il mio turno Attenzione Oh Hai detto mio turno Ed è uscito il leggendario Però fortunatamente Sono a livello 45 Questo che è È il terrakion Vero Terrakion Baby Non chiedermi come abbia fatto A ricordarmelo Perché faccio sempre confusione Tra quei cosi Che non hanno senso Ah vabbè Anche io avendo giocato a pokemon Per 12 anni Faccio ancora Anch'io confusione Con robe Nice Sì però capisci Io non ho mai giocato Né a bianco nero Né a x y Quindi Ah Quelle due gen Sono completamente Il buio per me Conosco i nomi Ma non conosco i pokemon Nel loro ruolo Comunque con l'esperienza Della cattura Mi è salito di un livello Gamschuse Nice Oh Pitch No dai infame Via Back to back Leggendari Mi può scappare Dani ti caccio dal server Dani scappa Fatti uccidere Ok 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 Ma ciao bellissimo Come stiamo Like if you cried No no ma io non piango Sì o meglio di gioia Si può piangere di gioia Sì Certo Non mi è mai capitato Io lo faccio sempre Quando tu metti un episodio Di rosa spruzzi Oh Perché tutti quanti amano Rosa spruzzi Cosa c'è Vabbè effettivamente Ignorante E certo Vai Dani Inizio al momento Un pokemon numero 4 Oh Oh A livello 29 Il pokemon più brutto Che ci sia Oh mio dio Vabbè raga Raga Binacle e barbarac Voglio copi strancare Tec la sua ruota della fortuna Tipo adesso Tipo adesso Però effettivamente Cioè Io non so Secondo me La gente dà tanto merda Addosso alla persona Che ha disegnato Klefki Ma poi c'è barbaracol C'è binacol Saranno ben peggio Quei due o no Ma Klefki è carino E a parte che Appena usciti XY In competitivo Era una bomba Ma al di là di questo Cioè almeno È fatto bene Vabbè Questo qua è un coso Che non ha senso di esistere Un blob di cose Messe insieme E Altro leggendario OMG E andiamo Dani sei un po' fottuto Mi sai Ho appena tipo perso Like right now Basta Dai 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 Un bel leggendario A 70 pure per me Sì Vabbè Farper c'è pure 49 Tu scherzi È il pokemon più forte Che tu abbia fino ad ora Ma c'è veramente Più alto di livello Tra l'altro Posso fare un Un appello Alla Oh C'è un mega salamence Leggendario Dov'è andare A un leggendario No È mega Non puoi neanche Tu Posso fare un appello Alla the pokemon company In Let's Go Pikachu In Let's Go Eevee Mi aggiungete un'evoluzione Al povero Farfetched Che se la merita È un po' così carino Però E poi pensa che ci doveva essere All'inizio No ho visto il video In cui hai fatto la reaction Al Pokédex Beta Sì dai Prima o poi ci sono Lo spero Lo spero Poi la riutilizzano Vabbè Vabbè Non mi lamento Dopo due leggendari di fila Oddio Stanky È uno Stanky Sì Io non ricordo mai Il nome di quello Ecco Stanky E Skank Tank Li confondo sempre Sì sì Vai Ultimo Pokémon per Dani Ultimo Pokémon Eh Beh 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 50 Agislash ci sta Non è un pessimo Pokémon Tutt'altro Perché io non ho Modo di Counterarlo Mi sa I'm gonna lose bitches Beh oddio Dipende da quello che trovo Alla fine Perché non ho modo Di counterarlo Ripeto 3 2 1 Andiamo Dai Altro leggendario Ora ti esci Ah figurati Speravo fosse di Alola Invece no Quello normale Sono rimasto malissimo Vabbè Dani i nostri 6 Pokémon Ce li abbiamo Io direi di curarli Per sicurezza E poi possiamo già battagliare Dani è spanato un Upa È spanato È spawnato Spanato Ma ce l'ho già Ma ce l'ho già l'Upa Tu lo vuoi No Ok allora lo lasciamo morire Dani sei pronto a combattere Sono pronto Vai io ho scelto la mia lead Anch'io Andiamo 3 2 1 Vai Cacnea Vai Agislash Va bene accettiamo Questo duello Vai starter di Eren Vai starter di Eren Li l'hai lupato Ma te sembra Nooo Mi hai Mi ha missato l'ipnosi Ecco Perfetto Aspetta Perché Poliwrath Ha usato l'ipnosi Non gliel'ho mai chiesto Perché stai usando Io Aspetta Io ho tirato fuori Cacnea Perché io ho Poliwrath In campo Non ne ho idea Vabbè va bene Ok Dannazione che odio Che brutta accoppiata Di tipi che hai Vabbè Andiamo con Vabbè Switchiamo Sto punto Tanto tu ti sei Boostato l'attacco Dannazione In maniera anche bella Cattiva Sì Almeno tipo 3 volte Sì infatti adesso Non puoi neanche più salire Che palla è vero Il veleno Non funziona sull'acciaio Me lo dimentico sempre Sono un cretino Ma io non posso farti male Mai Devastami lo stanchi Grazie Ora mi sciocco tutti No come ho fatto A perdere vita Hai preso il contracolpo No non hai il contracolpo Notte Sferza Almeno non mi sembra Perché hai perso vita Non ho idea Sei sicuro Di averlo usato Notte Sferza Sì Forse aveva tipo Un'abilità Tipo carta vetro Scoppio Qualcosa Perché stanchi Con carta vetro Scoppio E che ne so Infatti mi sembra strana Oh vabbè Non ne ho idea Vai con Aspetta Eh vabbè Ma mi stai shottando tutti Dani Io non ho più nulla Eh sì Che non mi cali leggenda Ecco Perfetto Aspetta Lo psico Ha effetto Sì ok c'è l'altro Ottimo Mi dimentico sempre Che cacchio succede Oh Oh Perché le mosse buio Sono super efficaci Ma porca Ma porca Misere Dai 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 Fuori uno Ragai Non ce la farò mai Mamma mia ragazzi Ragai mi stai davvero devastando Lacerazione Eh vabbè Ok va bene Va bene No No Ah porca miseria Dai Succino adesso Con l'ultimo pokemon Che mi è rimasto Ma porca Si è svegliato Wow Devastante Non ha neanche mosse Com'è Cos'è Cos'è Sheer Cold In italiano Ah è puro gelo Eh Eh sì però Non intera mai Eh spero Eh infatti L'ho messato tre volte Raga Dani mi ha battuto No Che ho usato Sheer Cold Si è l'unica mossa Con cui posso fare danno Cioè non ci credo Vabbè Vabbè Eh ciao Vedi Dani Alla fine con la tua squadra di merda Con il tuo Legisla Oh con un pokemon solo Ti stavo devastando Mi hai devastato Io adesso Ecco l'ho messato Non posso più attaccarti con nient'altro Che io sappia No infatti Poliwrath Vieni a morire Oh yes Dannato Edgeslash Gigi Gigi Mamma mia Edgeslash Dani Ora Puoi scegliere tra tutti i 12 pokemon che sono usciti Quello che vuoi tenere Allora Contando che Terrakion Abbiamo detto no No Che Latias No Che Suicun no Che Suicun no Ne puoi anche Tenere uno di quelli che ho usato io Te lo posso scambiare al massimo Chi è che hai Ripeti Oh un Poliwrath Nano Al 39 Voglio lui Ok Va bene Neanche ci pensa Ma tu non hai il tuo Il tuo Poli Io ho il mio Poliwrath Però un Poliwrath Nano Non può sparire nei dati Cancellati Effettivamente Effettivamente Andiamo alla macchina degli scambi che è Da qualche parte qua attorno Laggiù vero Sì è qua davanti È qua la sfida scambia pokemon Dani Vieni qua giù Daniel Dove sei? Muoviti Aspettami Sei lento Intanto vado a liberare tutti gli altri Ciao Exeggutor Ciao Stanky Ciao Suicune Ciao Latias Ciao Latias E ciao Cacnea Io sono pronto Ok Ti sto per scambiando il Poliwrath Nano In cambio di un Gumshoes Che verrà cestinato Sei felice? Oh yes Look at my new Pokemon Dov'è qualcuno Mi deve una lente di ingrandimento Ora faccio il video Con lo clickbait Alla PewDiePie My new Pokemon Con quella musica a palla Che fa lì Arrrape Che metto tipo La musica La sigla di Aliei Dai va bene Ben capito Vabbè ragazzi Il video lo concludiamo qua E spero che vi sia piaciuto Se così potete lasciare un bel like Un po' la sua descrizione Da tutti quanti i miei social network Da il canale di Danio E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Capito una buona giornata Bye bye Ciao